appena finisco questo se scusate non ho fatto video però e vi mostro un segreto e quale ce n'è un esatto allora vedete quel cespuglio nella scala quel cespuglio nasconde una cosa e come sapete adesso vi mostro come da personaggio ok adesso vi mostrerò cosa c'è sotto questo cespuglio o lei ah non sembra eh questa è una guidata questo non so se vedete ma si vede più niente c'è un sticker con sopra un teddy prossimo video no dai mi ha fatto dai mi in questo video vuoi dire la tua ultima parola si ciao ah 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 ah